Piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, ame. E ricordiamo tutte quelle persone che in quel tragico evento salirono in cielo, l'eterno riposo, dona loro o Signore, esplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace, ame. Benedici Signore quest'acqua perché il ricordo del nostro battesimo sia segno della tua presenza, ame. La benedizione di Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Facciamo un applauso a quest'evento, ringraziamo il Sindaco, tutti coloro che si sono impegnati e anche ai nostri cari amici dei Vigili del Fuoco che sono in cielo e che ci hanno testimoniato la responsabilità del proprio lavoro. Grazie. 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 Grazie.